Buonasera a tutti, salutiamo con grande piacere questo regolamento che oggi legalizza e regolarizza delle attività presenti da anni sul territorio, come ad esempio già fatto per il Farmers Market di San Teodoro. Oggi viene, come diceva anche il Consigliere Corsetti, quindi l'opposizione, fatto un passo avanti importante, questa delibera di giunta condivisa anche dai municipi e dalla Commissione, porta al riconoscimento di realtà importanti per il comune agricolo più grande d'Europa e questo è il fatto più importante. Questo viene fatto nel rispetto e nella valorizzazione di tutti quei prodotti che tutti noi oggi abbiamo apprezzato e possiamo apprezzare in diversi esercizi commerciali, nei mercati rionali dove sono presenti già alcuni produttori agricoli, nei Farmers Market che con questa delibera e con i suoi emendamenti andremo a istituire, quindi oggi sono istituiti da un bando separato, vengono istituzionalizzati dall'Assemblea Capitolina. È un momento importante, quello che diceva il Consigliere Corsetti viene superato poi dagli emendamenti già presentati, nel senso che ai municipi in uno di questi emendamenti è già data facoltà, poi ne parleremo dopo, di poter proporre i propri Farmers Market su strada. Quindi c'è una completa analogia di decentramento rispetto alla delibera 30, quindi come nella delibera 30, quindi nel commercio su Repubblica, i mercati rionali coperti e plateati ci sono di competenza del Comune, il Dipartimento, i mercati su strada e settimanali sono gestiti dai municipi. Analogamente i Farmers Market ubicati su strada sono di competenza dei municipi che propongono con deliberazione propria, sentito il Dipartimento, l'istituzione. Questo è un passo molto importante, quindi che va nel rispetto delle eccellenze del territorio e di quel processo di decentramento che è stato avviato già dal 99 e che noi stiamo potenziando soprattutto poi nell'ambito del commercio. Grazie.